Ragazzi, allora, ho ottenuto una missione di Bibi che valeva 500 gettoni, cioè che vale ancora 500 gettoni, ed era di vincere 8 partite con lei e io ne ho 27, quindi, cioè, non proprio vincere perché in teoria puoi arrivare anche quarto o terzo. No, 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 scappa! Ma porco, cane, non ci credo. Ok, otto. Perfetto, ho già perso due coppe. Intanto sto guardando Italia's Got Talent. Ok, un bombardino, un chilo easy. Però non sono molto intelligente che io perché se c'è una cassa lì è ovvio che va avanti così. Allora, uh, quattro addirittura! E un pocio! Che chilo incredibile! Vi immaginate se c'era uno così? Lo colpivo così, poi rimbalzavano tutte le palle. Cioè, la palle perché in teoria alta è una. Sì, va... Sì, è triste perché non ho poco rap, eh? Si fa così. Sesto. Allora... Però ho avventura una coppa. Allora... Ok, questa volta vado in su. Non so, c'è se... Non c'è che... C'è tra tutti i brawler che mi potevano capitare... Ambra. Proprio ambra, eh? Ok. Allora... Però considerando che io ho bisogno, ehm... Ah, c'è... Mr. P. Ok, bene. Ok, no, dai, ma... S'ho fatto di male. Vai, chillatevi tra di voi. No, ma come ha fatto a non accorgermi che c'era una mina? Sei? Scappa, scappa, scappa. Sì! Sto iniziando. Ho un power up e siamo in sei. Pochissimo, pochissimo. Siamo in quattro, quindi siamo io adesso ho completato. Oltre la mission. Cioè, anche se muoio adesso ho completato la mission. Non ci spero di morire adesso, eh. Ho visto che ho fatto danno a qualcuno, appunto. Sì, ciao. Sei power up. Provo e ci provo, ma... No, ecco, appunto. Vabbè, almeno ho finito. Oh, missione finita. E... Ecco, sì, stavo riflettendo. Ecco, oltre a questo, ecco, appunto, c'è una mega cassa. Apriamola subito. Cinque skip. Allora. Però c'è il bond. È la prima mega cassa in cui trovo cinque skip. Poi farei anche... Ah, sì, ragazzi. Ho trovato l'ho... Non mi ricordo se l'avevo già detto. Buono, mercato. Vabbè. Anche se questo video durerà poco finisce qui. Perché non volevo aprir la mega cassa basta con voi. Ciao.